Qui vi presentiamo le 5 migliori sedile WC rialzato. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. NRS Alt-Car M1-1-1-3-2 Rialzo per WC con coperchio. Ha una piccola pendenza che permette di salire e scendere velocemente. La sua forma liscia e disegnata lo rende particolarmente confortevole, mentre l'incavo posteriore assicura confort per l'area sacrale. Facile da montare e anche smontare, dispone di ganci laterali che si chiudono con vite, riparando in modo impeccabile il sedile a qualsiasi tipo di comodino. Alza il WC di 10 cm ed è anche in plastica per una pulizia molto facile. Ha una dimensione di 19x19x42. Passando al numero 4. Mopedia. Rialzi per WC con coperchio. Viene proposto in tre diverse versioni per alzare l'altezza del WC rispettivamente di 6 cm, 10 cm o 14 cm. Può essere posizionato in modo sicuro su tutti i tipi di comodini tramite due bretelle laterali in plastica regolabili in larghezza. La disposizione ergonomica della seduta offre un confort ideale grazie alla riduzione dello stress da assistenza. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Rialzo WC. Alza vater anatomico con sistema di fissaggio laterale. La superficie della seduta è anatomicamente realizzata per diminuire la pressione di appoggio oltre ad offrire un miglior confort. Ha anche un angolo avverso minore che incoraggia la postura corretta abbassando la flessione dell'anca e delle ginocchia. Il profilo del sedile ha una doppia apertura anteriore e posteriore per favorire l'igiene personale. Almost at the top of our list at number 2. NRS Altcare F25145 novelle rialzo clip on per WC. Si collega molto semplicemente al sedile esistente ed è quindi senza assistenti. E, certamente, può essere lanciato altrettanto comodamente e quindi un comodo aiuto che può essere portato con sé anche durante un viaggio e una vacanza. Aumentare la seduta esistente di 7,5 cm, per un sollevamento totale di 10 cm. Le sue misure ammontano a 41 x 41 x 12,5 cm. È realizzato in plastica resistente, molto sensibile al riordino e all'igienizzazione. E infine il numero 1 della nostra lista. Drive Medical 12027 RA, rialzo per sedile WC 2 in 1. Può essere posizionato rapidamente su moltissime comodi diverse dimensioni e forme, grazie allo speciale dispositivo di fissaggio che lo mantiene saldamente ancorato. È dotato di comodi braccioli che possono essere rimossi a seconda delle esigenze. La sua struttura in plastica sagomata lo rende davvero resistente e anche l'imbottitura extra in schiuma espande l'intera lunghezza del bracciolo per una comodità ink. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.